3 falsi miti sul fare carriera che probabilmente ti stanno bloccando in un lavoro che detesti. Poi scrivici nei commenti 1, 2 o 3 sotto il video in base a quante di queste convinzioni errate fanno parte anche di te. Vediamo la numero 1. Per fare carriera devi lavorare di più, essere più competitivo e più aggressivo. La verità è che la vera carriera sostenibile si costruisce comprendendo la tua unicità perché il vero successo deriva dalla consapevolezza di chi sei, dalla tua capacità di sfruttare le tue passioni e abilità in modo autentico, seguendo un percorso che rispecchia la tua essenza. Metto numero 2. Sei meno desiderabile dalle aziende se sei disoccupato. Falso. La verità è che le pause nella carriera possono essere preziosi opportunità di crescita e riqualificazione. La tua esperienza, la tua determinazione, la tua volontà di imparare nuove competenze possono renderti un candidato altamente attraente per le aziende, se sai come valorizzare tutto ciò davvero, questo in effetti. Metto numero 3. Più si amanti con l'età, più difficile trovare lavoro. Falso. Quello che manca spesso non è la giovilezza, ma la consapevolezza dei nostri talenti e delle competenze acquisite negli anni. Per essere spendibili sul mercato del lavoro, dobbiamo essere qualificati e aggiornati a qualsiasi età. Allora, quale di questi falsi miti ti blocca? Ci vediamo nei commenti e poi seguici per ricevere tanti consigli per trovare il lavoro più appagante e gratificante per te.